All'ultimo respiro ancora una volta. Il Cerignola la spunta in pieno recupero nella girandola di emozioni di Gragnano. Il solito Nicola Loiodice, glaciale dagli 11 metri, regala un successo vitale alla squadra di Dino Bitetto nella lotta per la promozione dei tre professionisti. Finisce 3-2 sul sintetico dei campani al termine di una gara per cuori forti. Partita in salita per gli ospiti perché il primo vantaggio è dei padroni di casa a segno con Cavaliere. I gialloblu ribaltano il parziale in avvio di ripresa con i centri di Foggia e Loiodice. Ma Chaval riporta la contesia in equilibrio a sette minuti dallo scadere. Poi ci pensa Loiodice dal dischetto a far pendere definitivamente l'aggo della bilancia dalla parte del Cerignola. Le distanze tra le prime tre però restano invariate. Vincono infatti anche la capolista Taranto e la capolista virtuale Picerno della 22esima giornata di Serie D. Gli Ionici espugnano per 3-1 il difficile domicilio del Nola grazie a una doppietta di D'Agostino e alla rete di Croce. Non basta i campani tagliamonte, i lucani che hanno sempre una gara in meno rispetto alle due antagoniste. Sbancano invece il d'Angelo di Altamura con Kosovan su rigore ed esposito. Fine della serie positiva per i murgiani dopo 8 risultati utili consecutivi. Continua a vincere invece la Fidelisandria. Al quarto successo di fila la decide Cristaldi. Aldegli Ulivi nel finale della gara interna contro il Sorrento. In precedenza Biancazzurri in vantaggio grazie a una punizione vincente di Benvenga. E poi raggiunti da De Rosa. La squadra ci crede fino all'ultimo. È evidente che nelle ultime gare abbiamo in casa trovato delle difficoltà perché l'atteggiamento degli avversari, soprattutto nei secondi tempi, è quello di aspettarci. Abbiamo fortunatamente lavorato su questi aspetti perché Benvenga ha campato un motolo mettendo 4 attaccanti e ci ha portato bene, quindi siamo molto contenti. Un ottimo bitonto fa 1-1 a Mugliano di Napoli nello scontro diretto in chiave playoff contro il Savoia. Patierno mette la freccia in apertura per i suoi. Tedesco rimedia per i campani in avvio di ripresa. Proteste Neroverdi in pieno recupero per questo rischioso tocco di mano di Pozziello. Sono arrabbiato perché ancora una volta poi la perdi pure magari. Sono arrabbiato perché abbiamo dimostrato grande maturità, abbiamo fatto una gran partita contro secondo me. Io ho trovato Taranto, Cerignola, forse la migliore squadra che ho visto in questo giro di ritorno. 0-0 interno del Gravina contro il Francavilla in Sienni. Torna a vincere il Fasano che batte 3-0 il Pomigliano al corlo con i centri di Ziccarelli, Corvino e Ganci. Penso che in campo oggi si sia vista la cattivella e la voglia dei ragazzi, ma allo stesso tempo ho visto anche un po' d'ansia in alcune giocate. In effetti abbiamo sbagliato un bel po' tecnicamente, però penso che sia normale. Volevamo portare a casa il risultato, era importante farlo, i ragazzi sono stati bravi e faccio un complimento soprattutto a loro. Si sblocca anche il Nardò con Acquaro che stende la Cenerentola Granata. Perde 1-0 a Torre del Greco, infine il Bari alla seconda sconfitta in questo campionato. Riccio porta la Turris a meno 9 dei Biancorossi in attesa del recupero che i campani giocheranno domani nel domicilio del Rotonda. Secondo me si finiva in parità, non diceva niente a nessuno.